A questo punto con la mente fredda e la B in tasca anche per l'anno prossimo la Futsal San Giovanese pensa alla finale di stagione con i Bassotti sabato un maggiore spazio a chi può averne avuto meno fino ad oggi e soprattutto ancora voglia di far crescere i giovanissimi per l'avventura dell'Under 21 che non è terminata per quest'anno. A questo punto l'obiettivo è stato raggiunto. Certo è che vorremmo chiudere in bellezza nel senso che nella prossima partita Salinga contro i Bassotti sicuramente tutta la squadra vorrà salutare nel migliore dei modi il nostro fantastico pubblico. Insomma questo penso sia il minimo che gli dobbiamo. Poi penso che l'allenatore abbia la voglia e la volontà di mettere alla prova chi durante l'anno magari ha avuto un po' meno spazio vuoi per infortuni, vuoi per squalifiche e magari provare qualche ragazzo dell'Under 21 per iniziare a programmare anche la prossima stagione. Certo è che l'adrenalina della salvezza ancora non può dirsi esaurita. Una grossissima soddisfazione perché devo dire che a un certo punto durante l'anno le sensazioni non erano delle migliori invece ci siamo stretti abbiamo riompattato un po' il gruppo dopo che tra infortuni, squalifiche erano scappati fuori i problemi che sono all'ordine del giorno penso durante una stagione calcistica e abbiamo conquistato una salvezza che alla luce poi analizzando tutta la stagione penso sia più che meritata.